Ciao ragazzi, Purom, buonasera ragazzi, Marco e Riccardo. Magazzini Generali perché è la location più figa di Milano, perché è storica e perché è veramente top. Io direi che è anche molto alternativa con queste linee, molto minimale, che ha caratterizzato tutta Milano, che ha ospitato DJ molto importanti negli ultimi anni. E non solo. Purom, la nostra serata, la nostra serata di altri e di tutti quelli che vengono a trovarci, Target GLTB, divertimento assicurato, molto friendly, tutto quello che mancava a Milano l'abbiamo portato noi con questo sabato notte, cercando di non ghettizzare nessuno e cercando di divertirci, perché il sabato sera è importante, la notte è nostra e i magazzini generali sono nostri. Buonasera, ci troviamo ai magazzini generali alla serata Purom, vi faremo scoprire stasera che cos'è Purom, che gente frequenta questa serata e quanta allegria e divertimento c'è, c'è, c'è. Ciao baby, ciao, la nostra guardia sigilli Purom, tutto bene? Benissimo, meravigliosamente bene, sta arrivando la gente, tra poco la serata inizierà e niente. Buona serata, divertitevi. Entriamo in Purom, seguiteci. Ed eccoci, praticamente siamo a Purom, siamo entrati in questa speciale serata bellissima, vi faremo scoprire quello che sarà la Night Live Gay Friendly di Milano. Salirà tutto lo staff del Purom, di questa serata Gay Friendly di Milano e i magazzini generali, ogni sabato notte, con tanta animazione, artisti, Purom Live, abbiamo avuto Siri, a Gennaro Cosmo Parlato, Samantha Fox e stasera abbiamo una DJ residente ad Arei con tutto lo staff Purom che vi aspetta qui, con il gruppo voi, solo per voi. Buonasera! Ciao! Ti piace la serata? Sì! Perfetto, è spettacolare! La cosa che vi piace di più? La gente! La musica, il brio, il divertimento! E basta! La gente! Ci sono anche tanti bei ragazzi, eh! Beh, deve essere molto da varietà, eh! Cosa ti piace di più? Gusti! E' la prima volta che vieni qua? No! E' già venuta, ti piace? Molto! Ti diverti? Troppo! E tu sei super top, cioè guarda che roba! Ciao! Ciao Italia! Where are you from? We're coming from Dubai! Wow, sono di Dubai questi ragazzi qua, né? Noi veniamo da Londra! Da Londra? Ciao! 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 Where are you from? I'm from Milano! Andiamo nel privé! Adesso vi facciamo vedere quello che c'è dietro! Dietro praticamente il Purom! Quello che gli altri non possono vedere ve lo facciamo vedere questa sera! Vieni con me! Allora qui, qua dentro praticamente, si trova il backstage del Purom! Tutto quello che c'è dietro la serata! E praticamente qua ci sono tutti i nostri gogoboy che si stanno preparando! Ciao! Ho detto che mi interessa spazio la serata! Sì! Vedete qua che roba! Eh? Da invidia proprio! E poi praticamente se ti avvicini, qui c'è tutto quello che riguarda il backstage! Ecco, siamo quasi arrivati praticamente al panorama lesbo della serata Purom! Quello che c'è praticamente qui è un altro luogo che fa parte della serata! Qui noi ci troviamo praticamente nel luogo lesbo della serata Purom! Dove le ragazze si ritrovano e vivono la loro serata, il loro essere qua dentro! Ciao! Come ti chiami? Sonia! Sei singola? Certo! Come ti chiami? Anna! Da quanto frequenti questa serata? Eh... Quattro anni praticamente! Cosa che ti spinge a venire qua il sabato notte? Eh, le serate che fate! Vi facciamo vedere il meno uno del Purom! Qua inizia Purpurom con lo staff della messa, sempre il sabato notte! Vieni con me! Il console DJ Bianca, una nostra resident del Purom! Purom! Continuiamo il nostro percorso Purom stanotte! Qui ai magazzini generali di Milano, sul palco come potete vedere, si svolge praticamente quella che è l'animazione del Purom! Cioè, nel panorama gay friendly abbiamo i Go Go Boy, i nostri due resident che sono Mark Leisure e Ricky Leisure, poi abbiamo le kick-off girls che sono animazione kick-off del panorama lesbo di Milano, e poi ovviamente musica top, di una qualità superiore a tutti i sabati notte! Da quanto frequentate Purom? Non sono mai venuto la prima volta, mi piace un casino! Ti trovi bene? Benissimo! Tu sei etero? Che! Convinto? Più o meno! Hai capito le ragazze qua? Ciao Purom! Ciao Purom! Ciao Purom! Buonasera a tutti i nostri amici del Purom! Ciao Purom! Ciao Purom! Un bacio a tutti! Ciao ragazzi! Ciao Purom! Ciao Purom! Ciao ragazzi! Ciao magazzini! Ciao! 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 Ciao!